Io passo la parola naturalmente invitando le persone che hanno eventualmente domande a proporle sulla chat, che ci fa naturalmente molto piacere. Passo invece la parola a questo punto, io penso che sia il turno di Carlo Alberto o di Stefano. Chi preferite? Io non sento. Vado avanti io, ho detto Carlo Alberto. Vai avanti tu, perfetto. Allora a questo punto io sarò la parte migliore, quindi qua non mi notizzerò perché il Guerrilla Marketing, a me verrà voglia di uscire anche qui per andare a fare un po' di Guerrilla Marketing, prima in Appi naturalmente poi in giro per la città di Mantua. Prego Carlo Alberto, prego Stefano, vorrei capire proprio che cos'è questo Guerrilla Marketing, perché prima lo capisco poi lo metto in pratica. Guerrilla Marketing, come dicevo il nome fa parte del marketing, le altre volte ho trattato i temi del marketing strategico, oggi andiamo più sull'operativo, cioè la parte finale, più pratica, quella che porta a risultati. È una disciplina che prende spunto dalla neurolinguistica e ha proprio l'effetto di convincere, convincere i clienti a agire, quindi portarli all'azione. Il Guerrilla Marketing prevede quindi di sfruttare quei pertuggi mentali che l'essere umano lascia disponibili, nei quali utilizzando certe parole, certi termini, certi meccanismi soprattutto, che fra poco vedremo, si riesce appunto a essere più persuasivi, cioè si fa in modo che la logica che normalmente le persone utilizzano, assecondi il ragionamento che il venditore, il proponente porta. Vediamo quali sono i principali. Il primo è il truismo abbinato al ponte incongruente. Come funziona questo meccanismo? Semplicemente facendo precedere alla proposta un assunto che è incontestabile. Questo prevede chiaramente conoscere un po' il mercato del cliente, quali sono i criteri, le logiche, quali sono le dinamiche del cliente, per cui facendo alcune affermazioni che appunto non possono essere contestate e facendo seguire a queste affermazioni una proposta, quella proposta appare di per sé più convincente, più logica e migliore rispetto a quello che possono fare gli altri. Facciamo un piccolo esempio. Se io dovessi convincere un gruppo di albergatori a fare della pubblicità, potrei dire, guardate, c'è una nuova forma di promozione, una nuova comunicazione che aumenterà il numero di clienti che arriveranno presso le vostre strutture. Il truismo invece, faccio la proposta, ma faccio l'antecedo con delle affermazioni tipo, ecco oggi vi ringrazio di essere qui presenti, signori in qualità di titolari delle strutture che appunto possedete, vi sarete accorti che le persone tendono a permanere negli hotel quando vanno in vacanza, 7-8 giorni rispetto ai 12-13 di una volta, tendono a fare bed and breakfast piuttosto che pensione completa e tendono a prenotare attraverso i portali che sì vi portano clienti, ma trattengono buona parte degli utili. Ecco, per tutti questi motivi vi presento un'attività di comunicazione che non solo bypassa i vari booking.com, venere.com, trivalgo, ma va a incidere su quella popolazione, su quei clienti potenziali che sono più facoltosi, che rimangono più tempo nelle strutture e che tendono a fare pensione completa. Bene, vi faccio vedere come funziona. Il truismo che faccio è esattamente identica a quella che avrei fatto prima, ma la mente del cliente rimane agganciata a questo concetto, perché truismo arriva dall'americano, vuol dire true, vero, a questo concetto che è incontestabile e quindi la proposta di per sé rimane più impressa nella mente, ha un maggior appealing e più possibilità di essere accettata da parte del cliente. Oltre al truismo abbiamo anche l'avversione alla perdita. Come funziona questa seconda tecnica? L'essere umano è di per sé avverso alla perdita. In uno dei suoi aforismi Oscar Wilde diceva che non ci liberiamo delle cose vecchie per il terrore che qualcuno possa raccattarle, questo spiega la quantità di cose inutili che più o meno tutti quanti noi abbiamo nelle nostre cantine. Aversione alla perdita quindi vuol dire che se io faccio percepire al mio cliente che sta perdendo un'opportunità, bene, quell'oggetto, quel prodotto, quel servizio improvvisamente diventa più desiderabile. Quindi io potrei proporre guardate questo nuovo smartphone ha queste caratteristiche peculiari che sono bellissime oppure potrei dire una frase del tipo ecco le opportunità che sta perdendo non potendo contare su questo smartphone. E le cose che elenco, che vado a elencare, sono esattamente le stesse che raccontavo prima. Ma già che la mente umana percepisce un rischio di non poter ottenere in futuro quelle cose è orientata maggiormente verso l'acquisto. Un'altra tecnica è la autopersuasione. Questa tecnica sfrutta le tecniche immaginative, cioè sfrutta il tema della narrazione. Io racconto al cliente cosa gli succederà. Facendo questo evidentemente in maniera virtuale proietto un film nella sua mente, piacevole chiaramente, che lo condurrà a un esito, a un traguardo molto molto interessante. Per cui se io ad esempio vendo degli stand fieristici potrei usare una tecnica del tipo ecco provi a pensare un attimo cosa significa per lei avere all'interno del suo spazio un oggetto che voglio vendere, grazie al quale ogni visitatore che si è presentato in fiera senza l'idea di venire da lei verrà attratto. Quindi lei racconta questo film piacevole in maniera tale che il cliente acquista l'idea, il prodotto, diventa solamente lo strumento che si verrà comprato per ottenere quel tipo di risultato. Ecco queste tecniche qui hanno la caratteristica comune che devono essere un attimo preparate a casa perché improvvisarle non è semplicissimo. L'altra tecnica è la tecnica cornice per cui quando io voglio prospettare una cosa, voglio fare comprare una cosa, un'idea che potrebbe non essere molto in linea con le aspettative del cliente, la incornicio all'interno di un perimetro che è favorevole al cliente. L'esempio che faccio è quando io per esempio sto negoziando l'acquisto di un'auto, porto la mia automobile vecchia e ritirerò quella nuova, chiaramente do pagare un conguaglio e non sono molto d'accordo sull'importo che il concessionario mi chiede, potrei usare una tecnica di questo tipo. Certo, lei è il commerciante di auto ed è normale che debba guadagnarci. Questa è la cornice favorevole al mio interlocutore, entro la quale metterò il dipinto che è il mio vantaggio. L'unica cosa della quale vorrei parlare è il valore che attribuisce a un'auto. Lei stesso ha riconosciuto che ha fatto pochi chilometri, tutto va bene, eccetera, eccetera, e lico questo perché voglio negoziare un prezzo chiaramente più conveniente per me. Ultimissima cosa sono le rispostine pret-à-porter, così le ho chiamate, che sono quelle cose che teniamo in tasca sempre per suggestionare il nostro interlocutore. La prima è la tecnica di uso della negazione, cioè usare la parola non nel modo adeguato, non ha due significati diversi. Se parlo alla mente razionale non vuol dire non, se dico questa biro non è gialla, ok, è accettato da tutti, ma se parlo alla mente subconscia, quella che si attiva quando la comunicazione si fa un po' emotiva, emozionale, è il non ha un alto significato. Se dico guarda Massimiliano, è la terza volta che te lo dico, non dico che tu non riesci a capire. Il messaggio che arriva a Massimiliano è non capisci una mazza. Cosa vuol dire? Che usando questa tecnica in un momento in cui col mio interlocutore cliente c'è un po' di animosità, ad esempio quando il cliente rifiuta che noi presentiamo un prodotto, vi avranno detto un sacco di volte, no no guardi non mi interessa, ho già capito, noi possiamo usare questa tecnica per bypassare questa obiezione con una fase del tipo certo signor Rossi capisco, ecco se esistesse uno strumento che da domani le consentirà di ottenere e elenco un po' di vantaggi, sarebbe interessato, non dico comprarlo oggi, ma perlomeno conoscerlo, ecco ho usato la tecnica della negazione, non dico di acquistarlo oggi, in realtà vi ho proposto di comprarlo oggi stesso. Sempre tra queste rispostine pret-à-porter, nell'ambito del guerriglia marketing, quando volete fare fare in modo che il vostro interlocutore compia uno sforzo, cioè faccia qualcosa che non è molto gradito, è sufficiente che lei, l'unica cosa che, l'unica cosa che le chiedo è, guarda, è sufficiente che lei faccia questa cosa, facendo, antecedendo questa espressione magica alla richiesta, la richiesta stessa ha uno spessore molto minore e quindi il nostro interlocutore è portato ad accettare la richiesta che stiamo facendo. Ecco, queste sono alcune le più significative, diciamo, tra le tecniche di guerriglia marketing che poi dopo, tra l'altro, come ha anticipato Giacomo, possono essere utilizzate in maniera anche estemporanea, famose, l'esempio di H&M che in una nevicata a Milano assoldò alcuni ragazzi, studenti universitari che corressero per la città scrivendo sui cofani delle auto innevate H&M e questo ebbe una risonanza mediatica molto forte e causa la viralità del tipo di azione. Ecco, queste sono le principali tecniche di di guerriglia marketing, ci sono molte altre cose, ma queste sono facilmente applicabili perché appunto fanno parte del marketing più operativo, le cose che possiamo mettere in campo. Ti chiedo una cosa Stefano, sulla base di quello che tu hai detto, che è una domanda che si poteva fare anche però a Erros Pignoli sulla comunicazione ipnotica, queste sono tecniche intanto che qualcuno potrebbe dire scusa ma siamo rimasti alla fase dove il venditore doveva diciamo così fare l'imbonitore, no? E cioè quindi tentare tutte le strategie per far cadere nella rete un venditore o in realtà come io penso queste tecniche naturalmente funzionano se usate in riferimento a un prodotto di qualità in riferimento a una proposta naturalmente seria in riferimento al fatto che tu poi una volta che hai ipnotizzato uno e gli abbia fatto fare una scelta sbagliata non è che questo lo ipnotizzi tutte le volte appunto con intendo che con la stessa situazione ma l'altra parte che forse è quella più interessante è anche queste tecniche funzionano intendo dire solo naturalmente nella vendita o possono essere utilizzate anche per persuadere al di fuori per esempio dell'attività lavorativa o nell'attività lavorativa quando devi vendere una tua proposta al capo o magari ad un collega beh intanto dico che se le persone che hanno hanno seguito questi minuti osserveranno con attenzione i politici ad esempio riscontreranno l'uso di queste tecniche nei più bravi il più bravo rimanendo nell'ambito della politica il più bravo che ho visto è stato Barack Obama che era veramente un mago della comunicazione quando si presentò per la prima volta e ottenne il mandato e divenne presidente ci sono alcuni documenti online che fanno vedere come lui entrando e presentandosi in una sala che conteneva duemila persone diceva più o meno queste cose buonasera grazie a essere presenti ieri ero comodamente seduto sulla poltrona di casa mia e pensavo che non è giusto che i nostri concittadini non possano mangiare non possono mandare i figli a scuola non possono curarsi ecco per tutti questi motivi vi chiedo di votare per me vi chiedo di mettere il voto il giorno in cui andrete in cabina elettorale sul nome Barack Obama io ve l'ho fatta molto breve in realtà ho usato quattro tecniche di comunicazione ipnotica che lui sapeva sapientemente usare la prima è l'altra sera ero comodamente seduto sulla poltrona di casa mia tecnica della immedesimazione le persone che lo guardano sono sedute su una poltrona quindi dicono lui sono io dopodiché le persone devono mangiare portare i figli a scuola curarsi è truismo per questo votate per me vedete ponte incongruente e terminava con se quando andrete in cabina e farete la scelta la decisione siglate Barack Obama ma mentre diceva scelta decisione univa indice pollice perché? perché la scelta la decisione si fa con una matita in mano questa tecnica si chiama ancoraggio cioè aveva ancorato nella mente di chi lo vedeva un comportamento che avrebbero dovuto adottare una volta che si sarebbero recati nella cabina elettorale questo per rispondere positivamente alla tua domanda e in effetti non solamente nella vendita ma anche in altri settori come la politica vengono utilizzate grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti